Ciao a tutti ragazzi, sono Infiltrator e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo nel secondo episodio della Small Piramide Parkour, ovvero la mappa che ho creato io. Per chi non l'ha visto il video di martedì, praticamente ho fatto i primi 10 livelli nell'ultimo video, quindi se ve lo siete persi, andatevelo subito a recuperare prima di guardare questo. E adesso iniziamo con il livello 11. Allora, iniziando proprio da qui, che sicuramente qua ci sarà un bug da fixare, perché tipo, inizialmente quelle parti lì e quelle parti lì dovrebbero essere bloccate. Sicuramente farò una modifica in questo livello con il mio amico che sa fare bene queste cose con i common block, che sicuramente mi aiuterà. Tipo, originalmente può andare qua, anche se sei tipo schippandoti tutta una parte di livello, e questa cosa non dovrebbe accadere. Quando in realtà vorrei fare che tipo, appena arrivi qua, tipo, tipo si clearano dei blocchi che prima ci dovrebbero essere. Poi semmai mi farò aiutare. Allora, adesso bisogna usare questo letto come slime, perfetto. Adesso andiamo di qua, facciamo tutto, tutta questa serie di salti. E adesso qua c'è un altro salto infame, da fare all'ultimo, tipo così. Ecco, adesso, ma io non ci credo. Allora, stavo dicendo, finalmente sono ritornato qua. Facciamo questo salto qua, e teoricamente vorrei fare che tipo da qua, se vai tutto avanti e ti ritrovi qua. Però qua tipo ci devono essere dei blocchi che coprono qua, prima quando devi andare là sopra, per farti tutta la parte. Perché se no ti fai direttamente il livello schippandoti, tutta una parte grandissima. E adesso vai qua sotto, fai tre salti così qua, tanto c'è lo attraversi così, tanto c'hai resistenza. E nulla, adesso andiamo al livello 12, che questo qua sicuro mi farà esplodere il cervello, perché è tutto fatto con i muretti. Quindi sarà così, così. Utilizziamo questo. Qui bisogna fare salti molto, molto attenti e molto precisi, perché i muretti non c'è, c'è una hitbox più piccola del blocco normale, come è giusto che sia. Adesso andiamo di qua, poi andiamo di qua, ok. Poi qui, poi qui. Solicamente quando dico poi qui mi concentro. Ma facciamo questa slab perché è praticamente una delle poche che vedremo. Poi adesso slime, e andiamo di qua. Poi qui, adesso salta all'ultimo, una sottospecie di salta all'ultimo così, perché c'era l'umletto sopra. Adesso facciamo questa scagnata con le slab, andiamo di qua, andiamo di qua, e and... Ok, meno male non sono caduto dentro. Perché io parlo nella mia vita? Ok, ecco, mi è ritornato qua. Quindi adesso andiamo di qua, e di qua. Questa volta non sbagliamo. Ok. Bene, adesso dobbiamo fare una cosa difficilissima, ovvero questo. Prendere lo slime in questo modo, andare qua, e andare nel livello 3G. Perfetto. Che è fatto tutto con la sabbia rossa. Comunque, se ancora vi chiedete che texture pack ho scaricata, è la Litos HD texture pack, che a me costa tipo 4 barra 5 euro nel marketplace. Ma che potete prendere gratis se avete il Ream Plus da 10 giocatori. Cioè, ve la dà in omaggio, in altre parole. Quindi andiamo di qua. Niente, la vita ce l'ha contro di me, allora. Ok, eccomi ritornato qui. Bene, adesso prendiamo bene la rincorsa. Perfetto. Poi stiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Ebbene, adesso qua non puoi andare direttamente, perché prima devi andare di qua, e poi fare un saltino qua. E adesso devi fare due salti nel livello 12. Uno e due. Adesso vai di qua, fai questa cosina qua, e raggiungi il livello 14, che è tutto fatto di diamanti. Allora, tralasciando il fatto che qua ci dovrebbe essere un altro bug che si dovrebbe fixare, che inizialmente non pensavo nemmeno esistesse. Ovvero, dentro questa struttura c'è un altro parkour, c'è la continuazione. E praticamente, facendo un salto con lo slime, potevi tipo schipparti tutta una parte, e io non voglio che accada, quindi sicuramente... Cioè, a me l'ha fatto notare proprio questo mio amico che sapeva usare i common block, perché una volta ci avevo pure provato io a cittare, per vedere se era fattibile oppure no. E io non ci riuscivo, quindi pensavo che non fosse fattibile. Invece era fattibile. Ok, allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, perfetto. Ok, adesso andiamo di qua e di qua, comunque, madonna. Anche se non li gioco molti parkour, non è che sono tanto attorno al ginito, dai. Uno, e due, adesso ti si deve fare una roba quasi impossibile, saltare all'ultimo e prendere la scala così, perfetto. Adesso, questo qua è il salto con lo saino che vi stavo parlando, perché facendo così, perché Tintoria, se saltavi da sopra, potevi raggiungere con lo saino quel buco lì che dobbiamo raggiungere dopo. Una volta pensavo che non fosse fattibile, invece, invece è fattibile. Adesso, però, in quanto c'entrano un attimo qua. Ok, adesso di qua, salti. Un saltino qua, saltino all'ultimo, poi di qua, e adesso si dovrebbe arrivare là dentro. Ma io non c'è, ma io non c'è, ma perché la vita ce l'ha contro l'ultimo? E perché la vita ce l'ha contro l'ultimo? Eccomi qua. Dopo anni, perché per davvero... Vai, perfetto. Adesso si passa a uno dei livelli più infami. Questo qua, tutto fatto di islami, devi fare anche i salti con blocchi sulla destra. Quindi, prepariamo, mettiamoci le mani nei capelli, perché molti miei amici hanno, sono anche... Perché ho preso danno. Perché molti miei amici sono anche impazziti in questo livello. Uno, due. Ok. Vieni, perché sono impazzato, perché sono impazzato. Ok, eccomi di nuovo qua. Non faccio lo stesso errore, questo lo devo fare così. Perfetto. Adesso. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Vai. Livello sedice. Dallo slime si passa al ghiaccio. Perfetto. Bene, quindi uno. Iniziamo benissimo. Dicevo. Uno. Due. Poi. Facciamo slime di qua e poi di qui. Uno e due. Poi qua. Poi di qui. E adesso. Niente, non è possibile. Dicevo, adesso dobbiamo stare un pochettino up. Attenti, perché si raffa di nuovo la cosa. Esca. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Perfetto. Adesso. Slime. Di qua. E andiamo a livello 17. Che. C'è un attimo in una cosa abbastanza. Allora. Sappiate che non l'ho voluto fare apposta. Sappiate solo questo. Quindi, il resto, il resto del livello è abbastanza, cioè, abbastanza facile, questo qui è il blocchino delle rite, però il problema è qua. Che resto si deve fare tutta questa parte qua, sotto tipo 25 scale. Due. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Diciasette. Diciotto. Diciannove. Nove. Sono andato qua. Diciasette. Diciotto. Diciannove. Venti. Ventuno. Ventidue. Ventitré. Ventiquattro. Ok. Contando quella di prima dove mi sono appoggiato, sono venticinque scale in totale, quindi. È un po' un infarto, sì. Adesso, slime. E andiamo qua. E andiamo al diciotto, che è l'ultimo livello che porteremo oggi. Quindi, andiamo di qua. Ovviamente, i salti sul fieno, questi qua, inizialmente sembrano, possono essere anche abbastanza facili, ma poi, man mano a mano che il livello va avanti, ci diventano salti un plecemente più complicato. Perché, tra l'altro, avete notato che dal diciassette il livello è anche cresciuto in altezza. Questo perché ci siamo avvicinati al centro della piramide. Perché, per chi ha visto la miniatura, ha visto che si chiama Small Piramide per un motivo, perché è una piramide. Però ho detto Small, perché è circa un quarto della Parkour Piramide, quella l'ha fatta da... quella l'ha fatta da quegli altri. Che, personalmente, io vi dico la verità, da quanto è pesante il mondo, non è possibile. Dicevo, da quanto è pesante il mondo, personalmente non la voglio nemmeno provare. Anche perché mi costo abbastanza, 6 euro, penso. 5-6 euro. E vi dico la verità, personalmente non la voglio provare anche perché il mondo l'ha abbastanza. Già nella Paradise 2, per via di una cosa che hanno aggiunto, sono già cresciato. E nulla, siamo già arrivati al livello 19. Però fatemi finire un attimo questo ricorso. Via da Paradise 2, che chissà la ricorda, verso il livello 70 c'era tipo un cannone animato che pesava così tanto che mi faceva pure crashare il mondo. E nulla ragazzi, io potrei anche costo concludere la seconda parte qui, in questa bella casina. Fatemi sapere se volete che magari continuo questa serie, la terza parte uscirà domenica e la finiremo tutta questa mappa e nulla. Da Infiltrator è tutto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.